buongiorno onorevole si presenti filippo malgradi onorevole come ha detto lei parlamentare di centro-destra cosa può dirci a proposito degli scandali che la stampa le sta attribuendo in questi giorni la stampa dice quello che vuole stampa va seguita con rispetto ma fino a dove riesce ad arrivare la stampa ma ieri le telecamere di montecitorio ha ripreso una professione sotto banca tra lei e un altro deputato ci viene legata anche la possibilità di parlare adesso sono vere le voci di una presunta aggressione ai danni della sua famiglia la notte scorsa non so di cosa stai parlando onorevole a me sembra che lei abbia qualcosa da nascondere guardi la malizia forse la sua non credo di aver nulla da nascondere è tutto sotto gli occhi di tutti ma io sono una giornalista sto facendo il mio lavoro non diciamo sciocchezze per favore c'è il paese che ci ascolta